buonasera cuore mio buonasera 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 e allora ti ho mandato prima dei messaggi probabilmente non è finito quello che stavi facendo si quando mi hai mandato quel messaggio di cosa stavo facendo stavo seguendo un po' le dirette su sta cazzo di guerra e no perché secondo Zelensky il presidente ucraino dice che se l'Ucraina cade poi Putin vorrà prendersi anche i paesi beltici insomma Lituania che cazzo i paesi del nord Europa praticamente perché secondo lui quelli sono paesi che appartengono alla Russia sono un popolo russo come lo è l'Ucraina è un po' problematico cuore mio perché non molla oggi in diretta ha detto che io non torno indietro io vado avanti per la mia strada allucinata ha accusato Zelensky che sta mettendo come scudi umani la popolazione e quindi ha detto che è un neonazista insomma quindi alla fine è veramente problematico il problema fondamentale è un altro perché la Russia detiene più del 50% delle testate nucleari del mondo cioè si parla di sì la testate nucleare ed è pericolosissimo 1900 ce ne aveva i ce li avevano gli ucraini però stanno sotto la il dominio dei russi insomma queste testate nucleari quindi è un po' problematica la situazione certo che si sta mettendo veramente drammatica si contano più di duemila morti già insomma è veramente un macello veramente un macello cioè un pazzo un dittatore uno che è allucinante cioè dice no tu devi stare sotto la mia giurisdizione nazionale insomma deve appartenere alla Russia e tutto e non molla non molla cioè non molla non lo so come va a finire cuore mio non lo so non lo so va bene andiamo avanti cuore mio andiamo spero che questo lavaggio sia andato meglio di quello di ieri e speriamo che sia efficace insomma va bene cuore ti leggo delle delle degli stati vediamo che c'è di carino cuore mio vediamo a proposito vedi che ha chiamato ciccio mi stavo dimenticando ha chiesto all'anto ha detto ma tu sai che fine che si ne ha fatto il donna bisogno perché sto lo sto chiamando che non mi risponde ha detto no non dice non sta dormendo qui in albergo non so dove si trova dice no ma siccome devo mandare a Lecce per lavoro quindi l'ho chiamato ma non mi risponde oh che cazzo di fine ha fatto 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 vediamo allora allora dormite con i vostri figli abbracciateli finché potete sotto le coperte non abbiate paura dei vizi. I figli sono piccoli una volta solamente, poi quando saranno grandi cercheranno la loro strada e i loro spazi. Dormite cuore contro cuore, tanto da sentire il loro respiro perché non esista al mondo cosa più bella. Chi male fa, male aspetti. Ecco. Aspetta cuore mio, aspetta. Aspetta cuore mio, cuore mio, cuore mio. Eccoti, macchinone. Potevi lasciare le armi. Meccanico. Oh, ti sei rimesso con i capelli cuore mio. Insomma, ti piace di più queste emoticolo con i capelli? Vabbè, vabbè. E avanti, ok? Gli fanno la testa. Sei uno spettacolo cuore mio. Mamma mia. Sei veramente uno spettacolo. Vabbè, non potevi lasciare lì un mazzacato in cuore mio. Vabbè, allora. Stavamo leggendo questo. Chi male fa, male aspetti. Le cattivere tornano sempre al mittente. Io mi siedo e aspetto. Mica ho fretta. Vediamo quest'altro. Questa è una frase di Don Tonino Bello. Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti si snoda la strada della Quaresima. Una strada apparentemente poco meno di due metri, ma in verità molto più lunga e faticosa, perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i 40 giorni che vanno dal mercoledì delle cenere al giovedì santo. Occorre tutta una vita di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala. Ricordati che l'unico debito che hai verso gli altri è l'amore. L'unica cosa di cui hai veramente bisogno è la misericordia del Signore. L'unico dono che puoi fare agli altri è la tua presenza. L'unica tristezza è aver chiesto compassione e riconciliazione senza riceverla. La vita ci spezza tutti, solo alcuni diventano più forti nei punti in cui si sono spezzati. E questo è quanto, cuore mio. Questi sono gli stati di oggi. Va bene, va bene, cuore mio. Allora, detto questo, sono contento del tuo stato d'animo. C'è un messaggio che mi ha mandato la ciccia. Tutto quello che stai attraversando ti sta preparando per ciò che hai chiesto. Ma questo l'hai mandato tu? Vediamo. Ma è il mio fratello. No, che palle. E di chi è? È il mio. Va bene. Bello. Lo leggo. A mio fratello. Ciao. Sta sopra, sta sopra, sta sopra con la mamma, stanno preparando, cuore, stanno preparando. Allora, ha scritto, tutto quello che stai attraversando ti sta preparando per ciò che hai chiesto. Mamma, mamma, sì, mo salgo. Devo prima finire con mio fratello. Allora, cuore mio. E basta. E basta. Non lo so cosa significano. Uno mi ha scritto un commento. Due minuti fa. Eh, ma come faccio a commentare? Non lo so se ti ho scritto un pazzo. Quando ti ho scritto un pazzo, cuore quello, mi è arrivato un commento. Non lo so se è russo o ucraino, poi non ho capito un cazzo, cuore mio. È cirillico, insomma, non si capisce. Vedrò di... di tradurlo. Va bene? Va bene, cuore mio. E niente, allora, io mi vado so, vado a mangiare, che questi già mi stanno stressando la vita. E niente, cuore mio. Fammi finire, fammi sapere appena finisci. Ed è che poi stanotte ti fai una bella dormita. Ma quelle gocce che ti prendi per dormire, cioè, si possono prendere tutte le sere. O non è consigliabile. Va bene, non fa niente. Quando starai qua te la canto io la ninna nanna, vai sì, le faccio addormentare con la ninna nanna. Va bene? Tipo ninna nanna, ninna, oh, questo bimbo a chino. Ma chi ci ha accocchiati a tutte e due, cuore mio? Va bene, dai. Beh, e ci sentiamo dopo. Cerca di mangiare un po', hai capito? Anche se non tanto, tanto, però promettevi che qualcosa la mangi. Mettiti qualcosa nello stomaco. Va bene? Beh, ciao, cuore mio, dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao, cuore, dopo. Ciao. Grazie.